Salve ragazzi bentornati subito su server 2 qui con un gioco che ha segnato il canale e l'estensione in massa degli sviluppatori Prendi giù sciabola rossa è un gioco che tende a metterti duramente alla prova ma a me fa ridere la gente che dice che non riusciamo a giocare a Dark Souls che è difficil- No non mi dico che sei morto no! Mettiti là dove sto io e morirai tempo un secondo Mi sembra sia passato più di un secondo Senti io non lo so perché a te non ti fanno un cazzo e a me mi massacrano Sono qui, sparatemi Tira una grana Se n'è andato Ti vendicherò Perché dovrebbe... Non vorrei correre zigzagando Si ma ti rendi conto che tu sei sopravvissuto correndo nel cortile con 10 fucili puntati addosso e io sono morto in una frazione di secondo appena iniziata la partita non ha senso Cioè non è possibile che a te non ti prendano, ho capito? Uno morto Passo avanti Capo Dove sei? Dove cavolo sto? Fronte edificio bianco Ah ok, fai parli come nei film togliendo gli articoli Giusto Entriamo porta Proviamo Piano Oh la... Blocca, non bloccare porca puttana Ogni volta Traversamento cancello Porco satana Surprise motherfucker Avevo visto, sono entrato che gli volevo sparare Ho morto Morirai anche tu lo sai, vero? Ma perché fa il fucile a pompa questo? Perché è potente Boom Preso Ma come fai? Io ancora neanche entro in partita, tu già hai ammazzato qualcuno In fondo Vaffanku Bella Ti rendi conto che non è morto col primo col Entriamo in fondo perché siamo troppi scoperti qua In fondo che vuol dire? Aspetta Che cazzo butti le bombe? Non correre Ecco appunto Dovevo arrivare da te? Adesso vado piano piano ma Entriamo da qua Controllo il secondo piano Secco Aiutami! Che cazzo? Ma che compagno sei con la bomba in mano? E manco ti sega! Mi si ho aperto la gialla Ma perché stai con le bombe in mano? Per una spieghera perché? Che cazzo vai in giro con una bomba? Se lo sai che sono lente le bombe E' più facile inizia a cucinare su take down che lanciare le bombe e non si può cucinare Mi era sembrato di vedere uno al secondo piano, volevo sfondare la pettrata con la granada Non torno a te niente Nella foca della fuga! Quindici anni ha giocato a take down, quindici anni, siamo i massimi esperti, abbiamo fatto una fanculo Nella foca del momento! Perché la pianta mi blocca il colpo? Abbiamo fatto le prove di rimbalzo, lo sapeva benissimo, ci ha dovuto provare Senti, io posso saperla bene una cosa, ma se fisicamente, a livello fisico... Madonna quanti ce ne stanno, aiutami, vieni, 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 vieni! Dove sei? Dove sono? Mi vedi dove sono? Aspetta, 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 aspetta Mi ho segato i tre con due colpi Grande Chi cazzo è stato? Eh, io l'ho preso, stavo sparando a te Ok, mi ho uccisi qua Corro dentro, corro dentro Vieni, sono alle macchinette, ci prendiamo un caffè Ok, 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 fermo, fermo là Fermo là, butto una granata Nooo, mi è un barcatraia! Però deve morì, deve morì Oh, è incredibile Come prendo in mano la granata Ma perché cazzo prendi in mano le granate? Ma è difficile questa mappa Ecco, non a caso non l'abbiamo mai finita Io penso che non siamo... Una volta sola mi sa che io stavo vicino a finirla Ma che... Vaffanculo! Ma come... Non è possibile! Questi sono quelli che hanno ammazzato te Sì, l'uno dal fondo... Ho capito! Sono come le api Dopo il primo colpo che tirano Poi diventano imbecilli per un po' Non possono più pungere Però è bello Cioè, a me piace Rottura se non erro il fucile a pompa Che su sta mappa è molto buono Però devo riuscire ad arrivare dentro Dobbiamo riuscire a... A m'ucciderne almeno 5 Quanti? 5, eh? Monna che se esci Mo ti faccio un culo grosso come una capa... T'ho visto, eh? È maria però, eh? Ma non capisco Fermo, 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 fermo Dove va? Dove va? Ma senti, io non... Sta correndo verso di me Oh, meno male O io ti giuro Gli ho tirato dalla vicinanza Gli avrò tirato 4-5 colpi, no? Occhio, ce n'è uno in fondo Ah no, quello lo devi fare tu Io ce l'ho rottura Preso Occhio Nella sala grande è pieno di gente in alto Sulla balconata Sono le macchinette Sono dentro di te, arrivo Ok No, 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 non mi morì Non mi morì, non mi morì Ma senti, ma quest'arma non fa nulla Non fa nulla Io, ragazzi, allora Il gameplay l'ho stata vedere pure voi Quest'arma Spara scorreggio Senti passi Senti passi Di distanza Non gli ho toccato Non gli ho fatto niente Sarebbe morto chiunque da quella distanza Gesù Cristo non sarebbe respawnato dopo tre giorni Ci avrebbe messo almeno una settimanella buona Per ricostruire tutti i tessuti, sai? Queste cose qui Che è l'attacco dei giganti Ce n'è uno in fondo, fermo Bello Fatto, fatta Eh beh, ma adesso ho preso anch'io il fucile e sberla Adesso non possono andare da nessuna parte Ora siamo una squadra super efficiente Pacco di un cazzo Ma sei tu? Sì Mi sono cagato addosso Mi sono cagato Vado in fondo Mi stanno sparando, mi stanno sparando, mi stanno sparando, mi stanno sparando Preso, uno Prendo la bomba Lancio una bomba A bomba Anch'io la stavo a lanciare Da merca Mannaggia Ma come? Non l'ho preso Come è morto Di distenti è morto Porca putt Ma che cazzo? Ma non serve a niente la pistola che c'ho Ma che proiettile hai messo? Io ho sparato tre colpi in te A quell'altro l'ho sparato dall'altra parte e è collassato I proiettili profumanti E dai, non si può giocare così però Sto entrando Ma chi cazzo è che spara? Però Allora farò la stessa azione di prima Lanciando Due bombe La prima a quella di Eh ma che culo però eh È la prima volta che riesco Stai sparando tu? Sì Eh questo Ho lanciato una bomba È uscito e ci è cascato sopra Praticamente Morcato L'hanno ucciso Oh ma qua c'è uno che si è salvato Da una scarica di proiettili Che tu non hai idea Occhio che dentro sta pieno pieno Prendi, vado in avanza scoperta Che se è buono ci veniamo insieme qua Vabbè ma lo conosco a memore sto boss Io non ero mai passato Mo prendo una granata Quindi mo' ne escono tutti quanti Ma come cazzo è? Dai Ma c'hai trigger sulle granate Appena prendi una granata escono Mo prendo una granata Quindi mo' ne escono tutti quanti Dotazione, sceglierla qua non ha senso Bisogna sceglierla soltanto Alla fine del round Vedi tutte ste cose Noi siamo esperti ormai Abbiamo capiti Sti bug Probabilmente guardando giocare una persona inesperta Ci incazzeremo Ci incazzeremo Ti diremo Oh no ma non sapete le cose più basilari No non mi ti metti davanti Eh porca troia ma gli sto Vaffanculo Quello era Immortale Soldati Il clam e cloud sono questi qua Gli devi tagliare la testa e gli devi sputare Gli devi sputare in culo Poi dopo che muoio Eh no quello non ce l'ho fatta sta È allertatissimo Mui viene dietro Che cazzo è che sparo Non io Ci sparano da sopra Quindi chiuditi qua E chiudiamo la porta E per essere sicuri Tiriamo una granata dietro l'angolo Ma che cazzo Non c'è un angolo là Non ti ricordi niente Non si può mai sapere Dove stanno i nemici È qua il problema Stavo chiudendo la porta È qua il problema Non l'ho aperta io la porta Ah l'ho aperta tu Io stavo chiudendo la porta Io ho sparato contro la porta E quindi non l'ho preso Se no l'avrei fatto Oh io non sono mai così prudente Per una volta che faccio la persona prudente Ma io ti stavo a dire Andiamo vicino alla porta Io apro Eh sì Eh sì Di solito quella è la prassi Di notte c'erano troppo bene questi Ci vediamo al prossimo gameplay Forse